Ma no, ma no, amore, si è sposata pure Emanuela, un'altra mia compagnia del liceo Cioè su 23 compagni si sono sposati 21, mi stanno facendo salire l'ansia, basta Amore non facciamo che tipo Final Destination, solo che lì la gente a poco a poco moriva e invece voi a poco a poco vi sposate Amore ma può essere mai? Oh amore può essere e io non voglio lasciare nulla al caso Dobbiamo scoprire subito in che ordine il matrimonio vi potrebbe colpire Chi sono state le ultime che essersi sposate? E amore, Nicosia, Oliveri e poi Emanuela Pipitone Nicosia, Oliveri, Pipitone, amore l'ordine alfabetico, amore, l'appello, amore, l'appello Dai tranquillo per favore Amore tu sei vitrano, tra Pipitone e Vitrano chi c'era? Eh, Rimini e Ungubaldi, però quello è prete Amore, amore se è prete vuol dire che il matrimonio lo salta e la prossima ad essere colpita dovresti essere Amore, 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 amore Amore, amore